L'appuntamento quindi è per sabato 10 alla Cantina Sociale Val Virgilio Colli Fiorentini, tutto il giorno. Prima si ragiona dei problemi, poi festa grande, ma l'argomento centrale oggi è quello dell'energia. Voi vi siete messi per l'avanti per tempo, perché ricordo l'inaugurazione degli impianti a pannelli fotovoltaici che assicurano il 60% della spesa. Quindi anche in questo caso innovazione a 360 gradi. Certamente noi abbiamo voluto bene al territorio e quindi siamo i primi a cercare di produrre non danneggiando il territorio, perché su quel territorio ci siamo e abbiamo costruito questo impianto fotovoltaico. Certamente i costi energetici in questo momento stanno rischiando e rischiano di travolgere l'economia italiana o europea, ma non solo. Anche per noi la bolletta nei primi sei mesi è già raddoppiata rispetto all'anno scorso e quello che ci attende sappiamo che sono lacrime e sangue. E quindi questo naturalmente, pur essendoci messo, come dicevi, a posto con questo. L'invito, e poi chiudiamo, è quello di venire, di vedere questa realtà. Sarà possibile naturalmente visitare la cantina e i soci, che naturalmente la conoscono, ma soprattutto i nostri clienti, con i nostri punti vendita noi abbiamo cercato di andare sotto casa del consumatore. Quindi speriamo che ritornino a preferirci e quindi acquistino nei nostri negozi.